Ciao Oggi, visto che tutti quanti ormai sono fissati con questo fottutissimo scaracca Nel gioco Fortnite Battle Royale Disponibile ora su PS4 e Xbox One E PC Vi porterò in un lunghissimo tour Dove andremo a trovare in ogni singolo puntino di questa mappa Dove trovare lo scaracca Ok? Ok Ok Siamo scesi in crocevia del Ciarpame Ma che hanno cambiato? Hanno cambiato nome? What the fuck? Perché hanno chiamato nome? Non era crocevia Cianfrusaglie tipo Ragazzi, ecco qui magicamente Guardate un po' la casualità Abbiamo trovato il primissimo scaracca Che si trova esattamente qui Vi faccio vedere meglio Voi arrivate Andate sotto questa piattaforma E troverete il primo scaracca Oh mio dio Vi rifaccio vedere il puntino Esattamente qui In quest'altra chest Sempre in crocevia delle Cianfru Ah no scusate Del Ciarpame Dopo aver lanciato questa palla da basket Potrete trovare un altro scaracca esattamente qui Vi faccio vedere meglio Guardate Vedete dove mi trovo? Vicino al campo da basket Praticamente Molto easy L'ultimo scaracca L'ultimo scaracca trovabile in questa città Sarà esattamente qui Verso l'uscita Della crocevia del cacchio Ecco qua il terzo ed ultimo scaracca trovabile qui Andando al cimitero Ne potrete trovare uno esattamente qui 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 Ed anche qui Andiamo a parco pacifico Proseguendo verso la retta via del parco pacifico Esattamente qui Lo vedete? Vicino al campo da calcio Potrete trovare uno scaracca qui Anche qui No 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 Qui c'è un nemico Ah potrete trovare uno scaracca lì Lì Potete uccidere anche questo nemico E fregargli lo scaracca Ovviamente Anche qui Anche questa cassa Scusami per favore Io starei facendo una Una challenge Grazie Ciao Ah potrete trovare ben due scaracca Uccidendo questa persona Mi beccano in giro e mi gridano Ehi Mi beccano in giro e mi gridano Gibit Se vi trovate in una fattoria Ad esempio Landeletali Non abbiate paura Dovete sapere che Il 90% Degli scaracca È prodotto Esattamente nelle fattorie Perché Il concime È perfetto Per produrre questo tipo di arma Infatti Come previsto Eccone un altro qui Qui Anche qui Qui ovviamente Anche lì sopra Se vedete bene Raga Tentiamo di fare La cosa più malata Del mondo Non ha funzionato Non ha funzionato Non ha funzionato Ma l'abbiamo ucciso Comunque E guardate un po' Cosa è uscito qui Uno scaracca Ovviamente Lanciandoci con una granata Impulso qua E cercando di scappare Dalla presenza Di un nemico Esattamente così Moriremo Mi hanno anche detto Mattiz Ma riuscirò mai A trovare Uno scaracca Nei boschi Tadà Beccato Se in questo baule C'è almeno uno scaracca Voglio 100.000 mi piace Ok Forse No Un nemico Come l'ho fregato Raga Ops Arriva Oh L'ha atterrato Non ci credo Vabbè raga No facciamo fuori team Giocando in solo Che dire E guardate un po' Con quel tocco Di magia Che ci dà La cespugliosità Di questo Meraviglioso cespuglio Ecco a voi Un altro Scaracca Nella palude Cacchio Mi ha ucciso Questi Erano Tutti I meravigliosissimi Posti Dove potrete Trovare Uno scaracca Leggendario Ah ma Corrado Matera Quaro Aveo Cuore 22